Si presenta domenica 3 settembre alle 20.30 nella piazzetta di Borgo Bonsignore, gocce di colore, storia vera di Simona, libro pubblicato dalle lettere scarlatte che racconta le vicissitudini della piccola Simona D'Abbene, una bambina nata affetta da una patologia rarissima delle articolazioni che si chiama artrogriposi e che ad appena 5 anni è già stata sottoposta ad una mezza dozzina di interventi chirurgici ed altri dovrà ancora subirne, ma è il suo sorriso la spinta più bella verso la speranza. Il sorriso di Simona è anche la forza motrice nostra di tutti gli operatori che in realtà quando vedono il sorriso di un bambino si attivano con quella voglia che fortunatamente abbiamo trovato nelle persone che in questo percorso abbiamo incontrato, da i fisioterapisti, i medici, insomma tutte le varie figure sanitarie che si incontrano. Sin da piccolina Simona aveva un mese dalla prima volta in cui abbiamo iniziato a viaggiare e conoscere gli ambienti ospedali, cosa che in realtà ben poco conoscevamo. Non posso dire di esserci trovati male, però in realtà come ogni cosa penso che ognuno di noi debba trovare il percorso giusto e noi questo percorso giusto l'abbiamo trovato dopo 4 anni in realtà. L'abbiamo trovato grazie a questa professionista che è la dottoressa Valentina Maestri, che è una dottoressa che ha lavorato per tanto tempo in Germania. Un ortopedico pediatrico, sì, che ha lavorato per tanto tempo in Germania in una clinica specializzata nella sua patologia. Possiamo dire che se ci sono voluti 4 anni è stato perché questa è una malattia rarissima? Sì, intanto è una malattia rara che ha delle particolarità che non possono sostanzialmente essere trattate in maniera generalizzata, non è un problema ortopedico generale, ma ci sono tanti componenti che devono essere comunque prese in considerazione nel momento in cui si fanno degli interventi o si fanno comunque delle terapie. Nei primi anni della sua vita Simona, grazie alla guida dei genitori, è diventata celebre sui social perché attraverso una pittura intuitiva dipingendo con le mani ha evidenziato un talento assolutamente significativo e sono proprio queste le gocce di colore di cui parla il suo libro, che naturalmente non sono solo quelle pittoriche ma anche quelle dell'anima di questa bambina, più che speciale. Abbiamo capito che fare rete, quindi spingere anche gli altri a non nascondersi in realtà e a parlarne, fa bene. Io ricordo personalmente le parole del chirurgo di Simona, che dopo aver fatto un giorno un intervento alla piccola, mi chiamò e mi disse guarda là c'è un papà con una bimba piccola, molto piccola, con la stessa patologia di Simona, potresti andare a parlare con lui? Io l'ho fatto e ho visto negli occhi di quel papà i miei e ho visto le sue preoccupazioni che erano le stesse le mie preoccupazioni di quando ancora Simona era piccola e quindi il fare vedere, il condividere, il dire cosa succede, ora la bimba ha 5 anni, la tua ancora è piccola, tutte queste cose, quindi aiutano, aiutano tanto, aiutano chi sta dall'altra parte, aiutano anche chi in quel momento sta dando una mano. Papà e mamma di Simona hanno deciso di fondare un'associazione che si chiama Artro Griposi Italia a cui verrà devoluto e ricavato dalla vendita del libro. Un'associazione che abbiamo fondato noi questa volta, che prima non c'era, non esisteva in Italia e quindi grazie anche ad alcune famiglie del centro e del nord Italia, in pratica siamo riusciti anche grazie comunque alla stima, all'affetto e al bene che ci vogliamo perché comunque questo è un progetto che comunque deve nascere per forza con persone con cui si ha un buon rapporto, comunque un certo legame, abbiamo comunque deciso di creare questa associazione. Associazione che punta a raggruppare tutti coloro, bambini ma naturalmente anche adulti, che hanno questo problema. Posso chiederle cosa ha significato per lei, guardandola negli occhi, diciamo che sta gestendo bene questa situazione, ma per voi cosa ha significato dover sottoporre vostre figlie a queste cure? Io sono stata sempre una persona molto molto ansiosa, anche diciamo che per quanto riguarda la gravidanza, non è che l'ho passata in maniera molto serena, però c'è stato un momento in cui, penso nel momento forse un po' più pesante, nel momento in cui mi avevano prospettato determinate cose, che lì mi sono detta basta. Non voglio più sentire molti pareri di specialisti, perché se avessi probabilmente ascoltato determinati consigli, probabilmente non saremmo manco qui oggi. La patologia di Simona è una patologia rara ed è legata a un deficit motorio. Capisco che dall'altra parte ci sono situazioni molto più gravi e purtroppo girando gli ospedali pediatrici si ha a che fare con tante situazioni molto complesse, delicate, si parla con altri genitori fuori dalla sala operatoria e ci si rende conto che c'è un mondo dietro tutto questo e che non è facile, non è proprio facile andare avanti. Quindi il messaggio è anche questo, cercare di comunque non abbattersi. Il libro che si presenta domenica è stato scritto da un insegnante che si chiama Adelaide Bianca Maria Dulcetta. Adelaide è un'insegnante, amica della maestra di sostegno di Simona, che ha avuto quest'idea di voler raccontare un po' i progressi di Simona sia nella sua vita privata che anche all'interno dell'ambiente scolastico. E l'autrice della prefazione del libro dedicato alla piccola Simona è una scrittrice d'eccezione, Catena Fiorello. Mi aspetta a poco, buon signore, domenica.